C'è una e una sola responsabilità sociale dell'impresa, impiegare produttivamente le proprie risorse e impegnarsi in attività concepite per aumentare i propri profitti nel rispetto delle regole e affrontando liberamente la competizione senza ricorrere a inganni e frodi. Questa è una frase di Milton Friedman, premio Nobel per l'economia, risale al 1970. Quanti di voi credono che sia ancora attuale? Bene, nessuno, mi fa piacere perché non lo è affatto. Le cose sono molto cambiate da quei tempi, io cercherò di darvi un quadro di quella che è la situazione e di mettervi qualche dubbio perché la materia è in forte evoluzione, quella della responsabilità sociale d'impresa. Partiamo con un velocissimo escurso storico, io credo, anche se di questo argomento hanno parlato in molti, che una prima pietra miliare sia stata posta da Edward Friedman con il suo lavoro sugli stakeholders. Friedman è stato il primo ad affermare che di fatto i manager dovevano avere come riferimento non necessariamente e non soltanto gli azionisti della società, ma il complesso dei portatori di interesse degli stakeholders della società. Perché qualora così non avessero fatto, li avrebbero persi per strada e questo avrebbe avuto un effetto negativo sull'andamento anche economico dell'azienda. Pochi anni dopo, nell'87, in occasione del World Commission on Environment Development, fu data una definizione di sviluppo sostenibile nella quale si diceva che lo sviluppo sostenibile è uno sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni. Fin qui siamo nell'ambito delle dichiarazioni. Facendo un salto temporale, nel 2000 il Consiglio europeo di Lisbona dichiara come la CSR, la Corporate Social Responsibility, sia uno degli strumenti strategici per realizzare una società più competitiva e socialmente coese per modernizzare e rafforzare il modello sociale europeo. L'anno dopo, nel libro verde della Commissione Europea, si legge che la responsabilità sociale è l'integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali e ambientali delle imprese nelle loro operazioni commerciali e nei rapporti con le parti interessate. Altro passo importante, nel 2006, su iniziativa dell'allora segretario delle Nazioni Unite, Kofi Annan, fu riunito un panel di operatori finanziari a livello mondiale con il compito, l'obiettivo di definire alcuni principi per gli investimenti cosiddetti responsabili. Il primo punto, il primo di questi principi fu l'incorporazione dei temi ambientali, sociali e di governance nell'analisi dei processi decisionali e di investimento. Venendo un pochino più vicino ai nostri giorni, un altro documento molto importante e interessante, la Uniso 26.000, guida alla responsabilità sociale, nella quale vengono posti e vengono chiariti tutta una serie di concetti che sono la base delle legislazioni successive. Però è nel 2011 che la Commissione europea dichiara in maniera esplicita la propria volontà di attivarsi in materia di responsabilità sociale delle imprese, cosa che porta nel 2014 all'emanazione della direttiva 95 comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni, che è la prima normativa cogente che abbiamo. In Italia è stata recepita con decreto legislativo 254 2016 e è in vigore da inizio 2017. Vediamo quindi cosa dice questo decreto. Questo decreto prevede l'obbligo per alcuni enti di interesse pubblico di redigere annualmente una dichiarazione, individuale o consolidata, a seconda che siamo meno all'interno di un gruppo, di carattere non finanziario. L'ambito di applicazione, come dicevo prima, in realtà è relativamente ristretto perché gli enti di interesse pubblico, poi vedremo cosa sono, che sono assoggettati alla normativa, sono gli enti che abbiano o che siano a capo di un gruppo di almeno 500 dipendenti e con attivo consolidato maggiore di 20 milioni di euro e o ricavinetti superiori ai 40 milioni di euro. Giusto per curiosità, quanti di voi rientrano in questa categorizzazione? Relativamente pochi, come dicevo prima, la normativa in questo momento è cogente soltanto per un gruppo molto ristretto di aziende. Quali sono gli enti di interesse pubblico coinvolti? Le società quotate, le banche, le assicurazioni, tutta una serie di altri soggetti che la normativa è esplicita in maniera molto dettagliata. Diciamo che in generale sono soggetti che possono avere con il loro operato un impatto particolarmente significativo su quelle che sono le variabili oggetto della normativa stessa. Queste sono per intenderci tematiche che riguardano, qui lo vediamo, temi ambientali, sociali, attinenti al personale, rispetto dei diritti umani, la lotta contro la corruzione attiva e passiva che sono rilevanti tenuto conto delle attività e delle caratteristiche dell'impresa. È importante questo concetto che viene definito principio di materialità nel senso che le informazioni che devono essere rese chiaramente non sono tutte quelle possibili e immaginabili relativamente a quello che l'azienda fa in relazione ai temi di qui sopra, ma quelle che abbiano effettivamente una loro materialità, una loro importanza. È chiaro che la finalità è quella di arricchire la conoscenza degli stakeholders rispetto a quella che è la mera informativa di carattere economico-finanziario con tutta una serie di informazioni che possono effettivamente avere un impatto sull'andamento anche economico futuro della società. E infatti la normativa identifica una serie di contenuti minimi della dichiarazione, tra cui, e questa è una novità del 2019 recentissima, tra cui anche le modalità di gestione dei rischi, cosa che nella versione originaria della normativa non era prevista. Non mi soffermo sui singoli contenuti minimi, la normativa è estremamente dettagliata e complessa anche nella sua articolazione perché si tratta di una normativa che è, diciamo così, in evoluzione. Il tema principale è quello degli standard di rendicontazione, che in questo momento non sono, come dire, riconosciuti, non sono unici, ce ne sono diversi, tant'è che la normativa fa riferimento a standard e linee guida emanati da autorevoli organismi sovranazionali o nazionali, senza specificare, diciamo così, singoli standard specifici. Addirittura è possibile adottare una metodologia autonoma di rendicontazione che prenda spunto da altri standard, purché ci sia un raffronto con gli esercizi precedenti che tenga conto dei medesimi standard e che venga data indicazione chiara articolata delle ragioni sottese alle scelte operate, tra cui vi può essere anche quella di non presentare alcuna dichiarazione, o meglio, di non specificare nella dichiarazione politiche relative a determinati aspetti che vengono ritenuti non rilevanti ai fini della relazione stessa. A livello di controllo e di responsabilità, chiaramente la responsabilità principale è quella che ricade sugli amministratori che sono obbligati a assicurare che la relazione venga effettivamente compilata in sede di chiusura del bilancio. L'organo di controllo, il collegio sindacale, deve verificare che detta relazione sia fatta norma di legge, ma soprattutto è importante il compito dei revisori legali che possono o meno essere gli stessi che fanno la revisione della parte finanziaria, i quali devono assicurarsi che effettivamente gli standard dichiarati siano applicati correttamente. Volendo la dichiarazione può essere inclusa nella relazione al bilancio, diversamente può essere una relazione distinta. Vado veloce perché abbiamo relativamente poco tempo. Chiaramente, come vi faceva vedere la slide precedente, la dichiarazione può essere anche adottata su base volontaria. Personalmente non ho notizia di chi lo abbia fatto su base volontaria perché gli obblighi sono abbastanza complicati. C'è un'altra novità del contesto normativo attuale però che volevo portare alla vostra attenzione anche per toccare un tema che è sicuramente molto meno frequentato. La domanda che vi faccio è quanti di voi hanno mai sentito parlare di società benefit o sappiano che cos'è una società benefit. C'è una mano alzata e una sola. La società benefit è entrata nell'ordinamento nazionale con la legge di bilancio del 2016 e è a tutti gli effetti una novità che per certi versi ha delle caratteristiche epocali anche se in questo momento pochi ne conoscono l'esistenza. La legge 208 2015 contiene nove commi nei quali si definisce la società benefit come la società che nell'esercizio di un'attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, quindi oltre allo scopo di lucro che è tipico di tutte le società, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territorio e ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse. Quindi la novità è che non esiste più quella contrapposizione netta tra profit e no profit, abbiamo una terza via che assomiglia molto di più al profit piuttosto che al no profit, che è quella delle società benefit. La caratteristica che definisce una società benefit è il fatto che nell'oggetto sociale della società debbano essere dichiarate le finalità specifiche di beneficio comune che la società stessa intende perseguire. E' importante notare come la normativa dica anche che le società diverse dalle società benefit che intendano perseguire anche finalità di beneficio comune hanno l'obbligo di modificare l'atto costitutivo o lo statuto e quindi di diventare esse stesse delle società benefit. La definizione di beneficio comune la si può intuire riguarda in generale qualsiasi ambito che tocchi tematiche di carattere socio ambientale, sociale in senso generale. La cosa interessante è che il fatto che questa dichiarazione venga inserita nello statuto della società impone degli obblighi importanti agli amministratori, i quali sono tenuti a rispettare il doppio oggetto sociale in uguale misura. Quindi è possibile un'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore che non persegua anche il fine di beneficio pubblico, per esempio. Così pure l'azienda che essendo benefit non rispetta gli obblighi previsti dalla normativa è assoggettata a tutta una serie di controlli da parte delle autorità competenti e quindi il raggiungimento degli obiettivi di carattere benefico è a tutti gli effetti paritetico rispetto agli obiettivi di carattere economico finanziario. Viene redatta obbligatoriamente una relazione che assomiglia per certi versi alla dichiarazione di cui parlavamo prima, che in alcuni casi potrebbe addirittura sostituirla perché ha molte caratteristiche simili, ma anche in questo caso la differenza, la difficoltà è quella di identificare uno standard di valutazione che sia univoco. Per quanto riguarda le società benefit, lo standard di valutazione deve essere esauriente e articolato, deve essere indipendente, ovviamente, deve essere credibile e deve essere trasparente. Poi io non so se queste slide saranno fatte circolare a tutti, quindi non mi dilungo sui contenuti di tutto quanto. Quello che volevo stimolare a fronte di questo è una riflessione su quello che potrebbe essere il futuro dell'evoluzione della normativa in materia di corporate social responsibility. La domanda che vi faccio è questa, è accettabile che un'impresa assorba dal contesto socio-economico e ambientale nel quale opera maggiori risorse di quante non ne crei o non ne restituisca? Io credo che la risposta sia ovvia, però per quanto le legislazioni attuali si sforzino di andare nella direzione di limitare i danni, mettiamola così, a oggi manca un complesso normativo che consenta di garantire che effettivamente questo trade off tra attività di impresa e impatto che l'impresa ha a livello sociale e ambientale si genera, direi, inevitabilmente. Quello che l'evoluzione della normativa in materia dimostra è che i legislatori di Mezzomondo su questo tema stanno lavorando. Ci sono una quantità di standard in giro per il mondo, ognuno dei quali ha caratteristiche differenti e si concentra su alcuni aspetti. Ce n'è uno che si sta imponendo però più di altri, che è quello delle B Corporation, che è uno standard nato negli Stati Uniti e che si propone di misurare proprio quel trade off tra impatto sociale e risorse generate dall'azienda sotto diverse dimensioni, quindi sotto gli aspetti di governance, sotto gli aspetti di impatto ambientale, di impatto sociale nei confronti della società, nei confronti dei lavoratori, nei confronti dei clienti e dei fornitori. Per darvi un'idea dell'importanza del fenomeno, nel mondo oggi ci sono quasi 2.800 B Corporation certificate in 64 paesi e in 150 settori industriali. Tra i primi ad avere aderito all'iniziativa c'è Patagonia, che è un marco che molti voi conosceranno, ma recentemente Danone per esempio ha dichiarato di voler ottenere la certificazione B Corporation. Tra questi ci sono anche un nutrito gruppo di investitori istituzionali e questo è un tema che credo debba accendere qualche antennina, perché chiaramente la capacità di attrarre investimenti che arrivino da investitori particolarmente attenti a questo genere di tematiche è un tema che riguarda in generale chiunque faccia il nostro mestiere. In Italia ci sono circa 400 società benefit e 85 B Corp certificate. L'ultima che ha ottenuto la certificazione dopo essere diventata la società benefit già da qualche anno e chiesi farmaceutici, una delle più grosse realtà che abbiamo in Italia nel pharma. Loro hanno preso la certificazione B Corporation, credo la settimana scorso, comunque molto di recente. Perché? Perché si fa questa scelta? Oggi fondamentalmente per differenziarsi sul mercato, quindi per avere una proposta commerciale in qualche modo attenta a qualificarsi come socialmente e ambientalmente positiva. Per migliorare la performance aziendale la caratteristica di quasi tutte le B Corp è di avere performance aziendale decisamente al di sopra delle medie del settore. Questo forse anche perché le B Corp e in generale le società attente alle tematiche di corporate social responsibility attraggono talenti, li trattengono, attraggono investimenti. Altro elemento che oggi spinge a intraprendere questo percorso è quello di far parte di un network globale di aziende che condividono determinati principi e questo aiuta a trovare partner commerciali che garantiscano anche livelli di qualità e di affidabilità che sono mediamente superiori al contesto generale. Anche per anticipare e guidare il cambiamento, perché per molti il cambiamento è un fatto importante. Cosa succederà domani? Ovviamente non ho la pretesa e non credo di poter essere io a dirvi che cosa succederà, però come dicevo prima vorrei mettervi qualche dubbio sul futuro e qualche curiosità. Un domani potrebbe essere necessario essere attenti alla corporate social responsibility e avere delle certificazioni anche per stare sul mercato. Ci sono casi di aziende abbandonate dai propri clienti perché lo scandalo ambientale X, lo scandalo di sfruttamento del lavoro Y le ha in qualche modo squalificate da un punto di vista d'immagine di fronte ai loro clienti. È ragionevole, proprio per quella domanda che ponevo poco fa, pensare che le aziende che dimostrano di avere un trade off positivo tra ciò che assorbono e ciò che restituiscono al contesto sociale possano ottenere un domani un trattamento fiscale più favorevole o altri tipi di agevolazioni.